La sfida per lo sviluppo sostenibile e un pianeta più sano sarà in gran parte vinta o persa all'interno delle nostre città. Così si esprimeva nel 2005 il direttore del programma ONU per l'ambiente, parole che tornano quanto mai attuali ora che stiamo ripartendo e che abbiamo la possibilità di rivedere il nostro stile di vita in città. Per esempio con la manutenzione del verde urbano in un parco come questo, ma anche con gli orti cittadini, tutti i luoghi dove si purifica l'aria, si mitiga la temperatura, crescono i frutti della terra e che danno bellezza e benessere e anche lavoro se si bonificano gli spazi abbandonati. La mobilità è un'altra sfida, la paura del virus e il desiderio di distanziamento possono riportarci nelle nostre vecchie auto così da far rialzare il livello dello smog che uccide anche lui e farci ritrovare incastrati nel traffico. Mentre le alternative ci sono a partire dal decreto rilancio che dà 500 euro di incentivi per biciclette a pedalata assistita perfettamente in grado di scalare ogni salita o per altri mezzi elettrici, strumenti che ci danno distanziamento, emissioni ridotte e possono contribuire a tenerci in forma. E ancora per le vacanze estive possiamo sperimentare il turismo lento, a piedi o in bicicletta, magari nelle aree interne e non solo per l'approccio bucolico o per le bellezze dei luoghi, ma soprattutto per rilanciare il settore dell'ospitalità turistica. Un modo per sostenere l'economia locale è avere l'opportunità di scoprire il ruolo delle comunità rurali nella storia del nostro paese, dalla cultura alla cucina, altra roccaforte della nostra identità culturale.